Alla fine hanno costruito anche sopra il Tempio del VII secolo a.C. Incredibile, a Messina non si può scoprire niente di antico che subito viene coperto dalle costruzioni. La storia di Messina e della Sicilia finisce sempre così. Qui era stato trovato un Tempio antichissimo, unico in tutta la Sicilia del VII secolo a.C. E' stato coperto anche, in questo caso, dal cemento armato. Stanno mettendo i solai in questo momento. Si vede nel cortile interno che lavorano. Il palazzo è vicinissimo alla stazione di Messina. Un altro pezzo di storia è la città che se ne va. Un altro pezzo di storia è la città che non si può scoprire.